Come si comportavano i persiani coenivinti? Erano crudeli? Ogni territorio conquistato doveva versare al satrapo dei tributi in denaro e inviare soldati. Poteva però mantenere la propria lingua e la propria religione. L'esercito persiano era numeroso e ben organizzato ma una parte, in particolar modo, godeva di diritti e privilegi speciali. Si trattava degli immortali, un reparto di 10.000 cavalieri scelti, così chiamati, perché il loro numero era destinato a rimanere invariato. Se un cavaliere moriva veniva subito rimpiazzato da una riserva. In cosa credevano i persiani? La religione dei persiani, basata su una dottrina attribuita a Zaratustra o Zoroastro, era fondata sulla lotta perpetua tra il dio della luce e il dio delle tenebre. Il giorno e la notte ne erano considerati i due simboli più evidenti. La città di Persepoli ospitava un magnifico palazzo reale ricco di sculture e bassorilievi di figure alate. L'impero persiano era molto evoluto e costituì il pericolo più grande per la libertà delle poleis greche nel periodo del loro maggior sviluppo. Il potente impero persiano cercò più volte di invadere le città stato della Grecia. Vediamo qualcuno degli episodi più celebri. Intorno al 500 avanti Cristo i persiani conquistarono le colonie greche del mare Egeo. Quando i coloni greci di Mileto si ribellarono, Atene intervenne in loro aiuto. Dario allora dichiarò guerra ad Atene. Nel 490 avanti Cristo l'esercito di Dario I sbarcò nei pressi della città di Maratona. I greci riuscirono a sconfiggere i persiani e un messaggero, Filippide, fu incaricato di portare la notizia della vittoria ad Atene, distante 42 chilometri e 195 metri. Filippide percorse tutta la strada correndo e all'arrivo, dopo aver dato l'importante notizia, morì per lo sforzo sostenuto. In ricordo di questo episodio venne introdotta nei primi giochi olimpici dell'era moderna di Atene, nel 1896, la Maratona, una gara di corsa lunga per l'appunto 42,195 chilometri. Wow! Dieci anni dopo, nel 480 avanti Cristo, il re Cerse, figlio di Dario, raccolse un immenso esercito e tentò di nuovo l'impresa, contando anche sul fatto che le città greche erano spesso in lotta tra loro. Ma i greci, in quella circostanza, si unirono nella lega ellenica contro il nemico comune per difendere la propria indipendenza. Grazie all'alleanza tra le due poleis più importanti, Atene e Sparta, i persiani furono sconfitti. Qui si colloca il celebre episodio delle Termopili. Comandati dal generale Leonida, gli spartani con 300 uomini eroici affrontarono i persiani alle Termopili, una stretta gola attraverso la quale si accedeva alla Grecia centrale e si sacrificarono per favorire il resto dell'esercito. Che strategia! Ed ora due curiosità. I persiani sono considerati gli inventori dei calzoni. Essendo un popolo che proveniva dalle montagne e montava a cavallo, avevano imparato a confezionare vesti aderenti al corpo. Alla tradizione mesopotamica adattarono i loro modelli tradizionali, inventando i calzoni e lunghe giacche con maniche. Tipicamente persiane, sono anche le calzature di cuoio chiuse con la punta rialzata ed il berretto di feltro. Ed ora la seconda curiosità. Pensate, i bambini di 60 anni fa e più giocavano anche con i soldatini o le bamboline e tutta una serie di ambientazioni in carta da incollare su cartoncino e ritagliare dalle riviste. Nell'immagine potete vedere un inserto da ritagliare dalla rivista Il Corriere dei Piccoli, che riproduce i soldati dell'esercito persiano. Provate a farlo anche voi, magari stampando delle immagini da internet. Alla prossima!